Ben trovati a tutti voi gentili. Ben trovati a tutti voi gentili amici a questo che è l'ultimo appuntamento per il 2015 di Laus, il settimanale dedicato alla Diocesi di Lodi al territorio dell'Odigiano. Apriamo questo spazio di informazione proponendovi un servizio che è stato realizzato qui nel Palazzo delle Comunicazioni Sociali, dove hanno sede oltre a Telepace Radio Lodi e Il Cittadino, il quotidiano dell'Odigiano del Sud Milano, perché in questo Palazzo appunto il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ha celebrato una messa per gli operatori della comunicazione. Vorrei ringraziarvi per la collaborazione che ricevo nella mia missione pastorale e per il servizio che rendete alla comunità. Grazie per la professionalità con cui vi impegnate. Così il Vescovo di Lodi all'inizio dell'Omelia della Messa celebrata al Palazzo delle Comunicazioni Sociali si è rivolto ai dipendenti del quotidiano Il Cittadino, di Radiolodi, di Telepace, invitando a unire sempre professionalità e coscienza illuminati dalla fede. Se non svendiamo la coscienza, ha aggiunto Monsignor Malvestiti, non svendiamo noi stessi e la gente ne trae beneficio. Dopo aver rivolto un pensiero alle famiglie dei presenti, ha chiesto per tutti consolazione e speranza per ripartire in mezzo ai problemi senza mai demordere, ricordando che c'è qualcuno che sempre ci perdona, ci rialza, perché possiamo riprendere il nostro cammino. Un amore che ci accompagna e che è deciso a non demordere. La vita è questione di cuore, ha spiegato il Vescovo di Lodi, di un cuore aperto, che se si chiude in sé si ammala e diventa un peso per tutti. Di qui l'invito a dire grazie a Dio e a chi ci ha generato. In questo anno della misericordia Monsignor Malvestiti ha dato appuntamento a tutti i presenti per il prossimo 23 gennaio quando si celebrerà il giubileo degli operatori della comunicazione, che insieme alle loro famiglie potranno passare con pentimento e amore sotto la porta santa. Infine l'invito a dare il più possibile buone notizie, perché c'è bisogno di speranza e ad avere sempre a cuore la coesione sociale, non volendo eliminare chi sbaglia, ma cercando sempre il molto che unisce. Passiamo ad un altro argomento con il prossimo servizio, parlando della festa per il compleanno di Papa Francesco. Una festa alla presenza dei delegati provenienti da 12 diocesi italiane di Azione Cattolica Ragazzi. Tra questi anche tre delegati provenienti dalla diocesi di Lodi. Che esperienza è stata? Sicuramente è un'emozione grandissima che ricorderemo sempre, perché Papa Francesco ci ha proprio accolti e ci ha fatto sentire proprio come se fossimo a casa sua, e quindi è passato uno per uno a salutarci e in questo saluto ci ha trasmesso tanto e è sembrato un po' come se si andasse a trovare una persona cara, addirittura quasi uno della famiglia e fargli gli auguri, sicuramente è stata una bella esperienza e una grande emozione per tutti noi. Ma ti eravate della delegazione di Lodi, da dove arrivavate? Eravamo in tre, quindi c'ero io che rappresentavo un po' tutti gli educatori della diocesi, poi c'era un ragazzo di Castiglione di 12 anni, Alessandro, e una ragazza di Guardamiglio, Adele, invece di 13 anni. L'occasione è servita anche per incontrare i delegati provenienti dalle altre 11 diocesi italiane che con voi sono andate dal Papa. Sì, esatto, è stato un bel momento perché ci ha fatto sentire ancora più parte di questa associazione che non si ferma soltanto a livello diocesano, ma va più in là e è stato un modo anche per conoscere, per scambiarsi idee, opinioni e per capire un po' come funzionano le cose anche nelle altre diocesi ed è stato soprattutto un momento per fare delle nuove amicizie. Tornando all'udienza con il Papa, qual è stato uno dei momenti che più ti ha colpito di questa udienza? Mi ha colpito un po' tutto, però se devo pensare ad un momento, mi ricordo il momento in cui c'era una bambina di Imola che ha letto il messaggio che noi della CR abbiamo portato al Papa ed è una bambina molto piccola, di seconda elementare, e quindi faceva fatica un pochettino a leggere tutto, però il Papa si è dimostrato davvero molto attento a lei perché in alcuni momenti quando faceva fatica a leggere si stava quasi per alzare per andarle vicino a darle una mano, ha chiesto di darle dell'acqua, e quindi questo è stato un bel segno di una persona attenta e proprio accogliente e soprattutto che ti fa sentire a tuo agio quando stai con lui, ecco non sembrava neanche quasi il Papa ma una persona molto vicina a noi e attenta a noi che comunque eravamo molto emozionati perché non capita tutti i giorni trovarsi con il Papa, ecco. Tra l'altro la ragazza di Guardambiglio copiva gli anni quel giorno. Esatto, è stata una coincidenza, una bella coincidenza, giusto per non farsi mancare niente, allora mentre il Papa è passato a salutare ciascuno di noi, dopo averlo salutato, avergli dato il dono che la diocesi di Lodi ha portato per lui, l'ho fermato e gli ho detto Santo Padre è il compleanno anche di Adele oggi, allora lui si è fermato, tutto contento e gli ha fatto gli auguri di buon compleanno regalandole proprio una coroncina del rosario più grande e quindi abbiamo colto l'occasione per fare quattro chiacchiere in più rispetto agli altri ed è stato anche quello un bel momento. I due ragazzi tornando verso casa che cosa ti hanno raccontato delle loro impressioni, delle loro sensazioni? Allora c'è stato un momento in cui erano silenziosi perché ancora presi dall'emozione, poi quando hanno iniziato a realizzare per bene che cosa stesse succedendo e che cosa fosse successo hanno iniziato a raccontare tutto, hanno detto che poi a scuola avrebbero raccontato ai loro amici, in famiglia, all'oratorio e poi il ragazzo di Castiglione che ho visto la domenica messa mi ha detto che era super contento, che l'ha detto a tutti e che lo fermavano tutti e quindi era traboccante di gioia, diciamo così, quindi sicuramente nelle loro famiglie ma anche nei loro ambienti hanno raccontato e hanno detto che la cosa che li ha colpiti di più è stato proprio aver abbracciato il Papa e averlo baciato, ecco, quindi un'esperienza che ricorderanno per sempre, mi hanno detto. Poi Adele sicuramente perché è il suo compleanno, quindi passato con il Papa, è una cosa davvero bella e particolare, insomma. Vi proponiamo ora una riflessione che abbiamo registrato con Don Cesare Pagazzi sul Natale. Celebrare il Natale significa ricordare che Gesù è nato duemila anni fa e quindi il Figlio di Dio ha mantenuto la promessa, ha detto che sarebbe venuto a visitarci ed è venuto. Celebrare il Natale significa anche accorgerci che egli mantiene un'altra promessa che è con noi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, sicché viene nella nostra vita in ogni uomo, in ogni donna che incontriamo e verrà anche al momento della nostra morte per tenerci sempre con sé. Sta di fatto che nel mistero del Natale noi celebriamo Dio che viene incontro a noi come un bambino e quindi qualche caratteristica del bambino ha da dire circa il modo con cui Dio appunto viene nella nostra vita. Ne prendo soltanto una. Un bambino appena nato, tra le altre cose, vive questo piccolo evento, non sa parlare, tant'è che noi lo chiamiamo infante, uno che non sa parlare. Eppure lui fa dei versi un po' strani, modula la voce, a una persona esterna questa voce è un linguaggio assolutamente insensato, ma per i genitori questo linguaggio è molto significativo e da questi suoni strambi i genitori capiscono che il bambino sta male, sta bene, ha qualche piccolo dolore o è felice e contento. C'è anche una scena buffa che i due genitori, un uomo e una donna adulti, si avvicinano al bambino e rinunciano al proprio modo di parlare per parlare come parla il bambino. A un esterno questo sembrerebbe una scena quasi comica o insensata, ma chi vive la relazione invece coglie la possibilità e capisce il senso di questo linguaggio strano. Dio viene a noi come un bambino. Se non ti leghi a lui, a volte il suo linguaggio sembra senza senso, privo di significato nella misura in cui ti leghi e accetti anche di rinunciare al tuo modo di parlare, capirai le sue parole. E così è anche Dio che viene incontro a noi tutti i giorni, in ogni uomo e in ogni donna che incontriamo. Quante volte il linguaggio degli altri ci sembra senza senso, insensato come la lallazione e i versini di un bambino appena nato. Se noi avremo il coraggio un attimino di legarci a queste persone e di rinunciare al modo con il quale noi normalmente parliamo, scopriremo delle sorprese e magari vivremo anche la scena buffa, piena di gioia, di un bambino che parla e di un adulto che capisce. Passiamo a parlare dell'ospedale maggiore di Lodi, dove nei giorni scorsi alla presenza del Vescovo Maurizio Malvestiti è stata inaugurata e benedetta la nuova cappella. Taglio del nastro per la nuova cappella dell'ospedale maggiore di Lodi. A dare la benedizione il Vescovo che ha sottolineato come nell'anno della misericordia la porta della cappella, sempre aperta per ammalati, familiari e personale medico, diventi una porta santa. Tutti gli ammalati, tutti i sofferenti, quando varcano questa soglia non potendo andare, se possono, anche a Roma o a Gerusalemme perfino o almeno in cattedrale, ma chi non può varca questa porta e chiede il perdono di Dio. Qui noi possiamo esercitare le opere di misericordia, corporale e spirituale. Ce n'è una che dice gli ammalati visitarli, assisterli. E poi ce ne sono gli spirituali che dicono gli afflitti nel cuore, da consolare. E tante altre, vedrete quante se ne possono realizzare in ospedale. Forse tutte. Luogo dove ci si ritira per pregare, per riflettere e per confidarsi con chi nutre e rafforza la nostra speranza. È il primo luogo della speranza qui in ospedale. È un aiuto proprio per la loro interiorità. Ecco, tante volte non li incontriamo, perché stiamo malati come cappellani, li incontriamo praticamente tutti i giorni. E accanto proprio al dolore fisico, tante volte, c'è un dolore interiore che richiede un aiuto anche particolare, spirituale, da parte nostra. E spesso, ecco, venire in cappella per loro diventa anche un modo per attutire questo dolore interiore che portano dentro e che tante volte non rivelano neanche i familiari, magari lo rivelano noi, nella misura in cui ci vedono appunto attenti a queste loro situazioni. Una cappella affiancata dall'alloggio pensato per i cappellani dell'ospedale. A caratterizzarla colori tenui e caldi. Al centro il crocifisso, in una posizione più riservata per consentire l'adorazione e il tabernacolo. È una piccola cappella raccolta, quindi la vedrete sicuramente più piccola di quella che avevamo. Però diciamo che è un po' più accogliente. Sono state utilizzate le moderne tecnologie, quindi luci a LED, piuttosto che raffrescamento, riscaldamento. Insomma, sono state utilizzate tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia. L'idea era quella di accogliere appunto tutti i nostri pazienti con un abbraccio e quindi è stata realizzata la parete che vedete alle mie spalle, con al centro appunto il Cristo in croce, perché con la sua sofferenza ci insegna appunto a superare tutte le nostre difficoltà. Il prossimo servizio riguarda ciò che è accaduto ad Osagolo di Giano, nell'area dei presepi, perché in questo spazio, nelle adiacenze del santuario, è stata proposta una rappresentazione vivente della natività. Lo scopo dell'iniziativa era quella di raccogliere fondi per il centro aiuto alla vita di San Colombano all'Ambro. Ad Osagolo di Giano, negli spazi del parco presepi adiacente al santuario, è stata proposta una rappresentazione vivente della natività di Gesù, iniziativa che così ci ha presentato il parroco Don Alessandro Lanzani. Oggi abbiamo avuto questa possibilità alla vigilia, diciamo, delle feste natalizie, di questa sacra rappresentazione in questo parco abbastanza famoso in tutto l'Odigiano. È la seconda edizione che con il Cava di San Colombano, vogliamo fare questa sacra rappresentazione, e abbiamo invitato tutte le persone a visitare e a vedere questi personaggi che hanno rivoluto e rifar vivere la presentazione di quel tempo della natività del Signore Gesù. La rappresentazione ha coinvolto molte persone del paese e ha avuto lo scopo di raccogliere fondi da destinare al centro di aiuto alla vita di San Colombano all'Ambro. Siamo due anni che siamo ospiti di Don Alessandro, che gentilmente ci aiuta nell'organizzazione e nella realizzazione di questo presepe vivente. Il ricavato della giornata viene devoluto al centro di aiuto alla vita ed è per questo che siamo molto grati a Don Alessandro per l'ospitalità. Sono state diverse le discussioni e le preoccupazioni espresse nell'Odigiano dopo la notizia dell'avvio dei lavori per un impianto di gas naturale nella località di Corneliano Laudense. A questo proposito abbiamo interpellato il Presidente della provincia di Lodi, Mauro Soldati, per chiedere un parere su questa realizzazione. I lavori sono cominciati. In data 15 dicembre Italgasa ci ha comunicato formalmente l'apertura del cantiere. È una decisione che ci aspettavamo, non ci ha colto di sorpresa. Sapevamo che dopo 5 proroghe questa probabilmente sarebbe stata l'ultima per cui entro il 31-12 dovevano avviare il cantiere. Ci sono elementi di preoccupazione che coinvolgono cittadini e istituzioni. Non a caso, nell'ultimo anno, visto che precedentemente non era stato fatto niente per coordinare l'attività delle istituzioni, ci siamo visti più volte. Abbiamo redatto un protocollo, chiesto alla Prefettura di attivare tutte le procedure necessarie alla redazione di un piano di emergenza esterna. Rimane comunque un elemento di preoccupazione di fondo perché questo è un intervento non noto, non conosciuto almeno a livello territoriale, e che ha lasciato ai margini le istituzioni locali per quanto riguarda il processo autorizzativo. C'è da dire che farne una questione meramente politica credo che sia un elemento di disorientamento e basta. Questa vicenda passa attraverso tutti i governi, passa attraverso 5 proroghe. Quello che serve è una riflessione vera sull'approvvigionamento energetico di questo Paese, ma mi sembra che non ci sia il clima e si preferisca fare una battaglia che non so quali elementi possa produrre nel corso dell'Ital che si è avviato. Però le autorizzazioni ci sono tutte per questa realizzazione? Ci sono tutte, sono state più volte prorogate, quindi da un lato l'Italgas ha un diritto acquisito, dall'altro c'è la necessità di trovare gli elementi di conforto, sia dal punto di vista della sicurezza ovviamente, che anche da eventuali problemi che si dovessero verificare. È vero che ci sono in giro per il mondo impianti analoghi, è vero che non è semplice di differenziare le caratteristiche di questi impianti, che sono molto diverse gli uni dagli altri, però è altrettanto necessario che ci siano tutti gli elementi di chiarezza e di sicurezza che noi stiamo chiedendo da tempo. Quindi l'auspicio qual è? L'auspicio è che se l'impianto arriverà a compimento, questo sia il migliore impianto dal punto di vista tecnologico per la rilevelazione della sicurezza. Non solo dal punto di vista del piano dell'emergenza esterno, ma abbiamo chiesto ad esempio di Italgas di mettere in atto tutte le linee previste dal Ministero dello Sviluppo Economico, le linee guida, per dare un progetto di sicurezza altamente significativo. Si parla anche di un impianto satellitare in grado di rilevare le variazioni del terreno sulla base di un millimetro all'anno, da mettere in relazione con il centro di sismologia italiano. Insomma, tutte queste cose rappresentano un elemento di attenzione sulla quale gli enti locali stanno spingendo e noi ovviamente eravamo arrivati anche al punto di chiedere che se entro il 31-12 non fosse stato avviato il cantiere che non venisse concessa alcuna proroga. Il cantiere è stato avviato, come dicevo, monitoreremo la situazione coinvolgendo i comitati e informando la popolazione. E adesso parliamo di piste ciclabili, nuovi progetti all'orizzonte per quanto riguarda il Comune di Lodi. Cinque nuovi percorsi ciclabili per una città sempre più ecologica, una qualità di vita migliore, spostamenti casa-lavoro facilitati. Si tratta di 18 chilometri, sei nuovi e 12 che verranno messi in sicurezza e migliorati. Un investimento di oltre un milione di euro, 450 mila stanziati dal Comune, il resto da recuperare attraverso un bando di Regione Lombardia, il cui esito arriverà ad aprile del prossimo anno. Abbiamo voluto investire in progettazione, sono 18 chilometri, sei nuovi chilometri di piste ciclabili e 12 chilometri che sono messi sotto la lente per la messa in sicurezza. Quali sono i punti di forza di questa programmazione? Il punto di forza di questa programmazione lavora molto sull'ambito cicloturistico che per il nostro Comune è un punto sicuramente di forza, ma gli investimenti che possono essere fatti sul percorso cicloturistico aiutano anche gli spostamenti casa-lavoro, quindi un rovescio della medaglia sicuramente migliorativo. Cinque i percorsi. La Lodi universitaria, in viaggio verso il fiume Lambro, il percorso Adda con la pista ciclabile in viale Rimembranze, il quarto percorso verso l'Adda e i suoi argini e infine il colatore Muzza. Cinque i percorsi, il primo verso l'università perché ormai è diventata una realtà con la posa della prima pietra, il secondo percorso invece collegherà il centro con il canale della Muzza, da un lato, quello di Ilo di Vecchio, il terzo percorso è il percorso regionale che ci attraversa in pieno centro urbano, abbiamo voluto definirlo meglio. Quarto percorso collega con gli argini, perché anche questa è una realtà che sta nascendo e che non può essere messa in discussione. L'argine di Buffalora è molto frequentato il sabato e la domenica, speriamo che anche l'argine sinistro faccia la stessa evoluzione. La quinta, il quinto invece prendiamo il canale Muzza dall'alto, dalla zona di San Grato. Questa puntata di Laos è giunta al termine. Grazie a voi gentili amici per averci seguito. Laos ritornerà con la programmazione normale martedì 19 gennaio. Grazie ancora a tutti voi e un buon augurio per un ottimo 2016. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri amici per averci seguito.